Oltre i confine, una nuova puntata, una puntata che ci porta a parlare soprattutto di donne, perché siamo nel mese di marzo, l'8 marzo ricorre la festa della donna. Questa è una puntata a cui io tengo particolarmente, perché per me le donne sono sacre, non andrebbero, come si suol dire, toccate neanche come un fiore. Purtroppo la realtà ci insegna che invece tra chi ti butta addosso l'acido, tra chi le prende a coltellate, tra chi le prende ammazzate e le riduce in fin di vita su delle sedie a rotelle, non sono sicuramente cose belle. Voglio anticipare una cosa, quella puntata qui la dedico a tutte, tutte le donne in assoluto, permettetemi per un'unica volta un minimo di personalismo a mia moglie Leonora, che sempre mi sprona a dare il meglio, alla mia suocera Margherita, che nonostante i suoi 92 anni è sempre molto combattiva, e poi ad una signora che io ammiro moltissimo, lei e sua figlia, la signora Irma e sua figlia, la signora Irma Riccardi di Gromo, quella dell'azienda dove producono formaggi, eccetera, eccetera, eccetera. Per arrivare a questa puntata, per arrivare all'8 marzo, prima di presentarvi l'ospite, la gradita ospite, voglio fare un piccolo riassunto. 1911, New York, la Grande Mela, mi sembra il 21 di marzo, o giù di lì, una fabbrica tessile, una manifattura di allora, prende fuoco, inopinatamente non vengono aperte le porte, non chiamiamole di sicurezza, ma le porte che potevano consentire la fuga, cento e passa donne, ragazze soprattutto, bruciano dentro, arse vive in questa fabbrica. La gran parte erano italiane, l'altra gran parte era di religione ebrea, perciò quello che oggi può essere lo Stato di Israele, o giù di lì. Da allora, per convenzione internazionale, si arriva alla determinazione che l'8 marzo sia la festa della donna, e ben ci sta. Noi la possiamo festeggiare nei nostri limiti con oculatezza, o con serietà, o con serenità. Mi immagino, senza voler citare uno Stato estero, però mi immagino che in Corea del Nord questo non sarà del tutto possibile. Ospite della serata, fortemente voluto dal sottoscritto, perché io mi alzo una volta al mattino e mi dico voglio fare quella puntata qui parlando di donne, la signora Flora Fiorina, che in questo momento protempore è sindaco di Gandellino, ma il sindaco qui non c'entra niente. E' tanto per capirci, è una signora che si presta a fare una bella chiacchierata con noi parlando di donne. Innanzitutto, grazie, grazie al mio nome personale e grazie al nome dell'emittente per aver accettato, anche perché siamo in un orario un po' fuori dai nostri termini. 8 marzo. Prima di tutto devo ringraziare io voi che mi date appunto questa opportunità, perché io sono convinta che il ruolo della donna in questi ultimi anni è nettamente cambiato e purtroppo, proprio però, in questo percorso che è stato fatto, non necessariamente la dignità della donna è stata valorizzata. Ma infatti, come in questo periodo, noi assistiamo a episodi in cui le donne vengono maltrattate, bistrattate, non capite, non apprezzate, proprio forse di più di quando ci trovavamo di fronte a una realtà di tipo matriarcale, dove la donna viveva esclusivamente in casa, ma in casa era la regina della casa e lì era rispettata, amata e anche fondamentalmente protetta. Nel nostro vecchio ordinamento giudiziario, mi riferisco al codice Rocco di epoca fascista, c'era addirittura il famoso delitto d'onore. La donna, se sorpresa a tradire, chissà perché poteva essere alienata. Cioè, è inconcepibile, è inconcepibile umanamente pensare una cosa del genere. Come è inconcepibile pensare che ci sia, da parte anche, perché purtroppo è successo, da parte di un paio di ragazze qui in Italia, che si sono accannite sui presunti o mancati morosi o amanti, eccetera, buttandogli addosso dell'acido. Cioè, sono cattiverie gratuite che sono venute da tutte e due le parti. Però, io lo ribadisco, l'avevo detto anche quella sera che avevamo avuto qui il perni bianchini come ospite, un altro che sostiene a spada tratta la femminilità. Due non vanno più d'accordo, un va all'estero, un va all'estero, un va all'estero, un va all'estero, finì messe. Che bisogno che sarà il destanque a sé? Che bisogno che sarà il decoupage? Ma che mi ha capito? Io credo che alla base di tutto c'è la mancanza di rispetto. Indipendentemente dal fatto che sia uomo o donna, esiste la persona. La persona umana va rispettata in tutte le sue dimensioni. Va rispettata dalla nascita fino alla morte. Questo è un concetto che per me è molto importante e dobbiamo proprio rispettare la persona. Se c'è questo rispetto reciproco, maschio o femmina, non esiste più nessun problema, secondo me. Esiste la dignità di ognuno e nel rispetto della dignità di ognuno ci si adegua il comportamento. Io credo che questo sia fondamentale. E' chiaro, in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, c'è stata un'evoluzione in tutti i campi. Quindi la donna è molto più libera. Forse si è fatta degli obiettivi diversi, delle ambizioni diverse, ma diciamo fondamentalmente quello che conta è proprio essere donna e non necessariamente femminista. Secondo me è un conto essere femmina e è un conto essere femminista. E nel ruolo che ognuno di noi svolge deve ricordarsi bene che, alla base di tutto però, ci può essere il ruolo di donna, di madre, di moglie. Queste sono le cose, secondo me, che sono importanti. E poi anche di nuora. Mi è piaciuta moltissima la sua frase iniziale quando ho ricordato sua suocera. E' bellissimo. A me farebbe molto piacere pensare, io non ho generi, perché ho solo due figli maschi, ma mi farebbe molto, molto piacere che una delle mie nuore potesse, con l'affetto che lei ha manifestato, ricordarsi di me in un'occasione della festa della donna. Vuol dire che da parte sua c'è questo rispetto per la persona, indipendentemente dal fatto che sia maschio o femmina. Guardi, io sono 37 anni, ormai quasi 38, che sono ammogliato. Grazie a Dio stiamo abbastanza bene fisicamente, con le varie incompressioni, così però mai ci siamo messi le mani addosso e mai non succederà. E devo anche dire una cosa, e io ho sempre avuto il massimo rispetto, il suocero non l'ho conosciuto, era già deceduto quando ho sposato mia moglie, io ho sempre avuto la massima ammirazione di mia suocera, nonostante ci diamo, diciamo, del tu, anche se io sarei quasi, quasi più tentato a dare del lei, perché la vedo come una figura, però ho sempre avuto un buon rapporto. se si va anche fuori, io sono sempre quello che gli dà il braccio, se lei ha bisogno di qualche acquisto, perché non si muove, o si muove poco da casa, non lo dice ai figli, lo dice al genere. È un rapporto, diciamo, di convivenza, di collaborazione, e mai, questo lo posso dire, mai in tanti anni abbiamo avuto un alterco. qualche discussione, sì, perché sarebbe innegabile, ma mai un alterco da dire l'andaglia fa sbenedì alla suocera. Però dicono anche che, questo, non lo so, perché io non ho mai fatto la parte della nuora, dicono anche che sia più facile il rapporto dal genere alla suocera piuttosto che dalla nuora alla suocera. Beh, è chiaro che tra nuora e suocera un po' di competizione c'è, perché in fondo tutte e due si trovano di fronte a dover spartire l'affetto, una del figlio e l'altra del marito. Fondamentalmente però, siccome noi siamo ricchi, più quanto riusciamo a dare come affetto, se noi riusciamo ad essere molto generosi nel voler bene alle persone che ci sono vicine, e quindi se oltre a voler bene al figlio, vuoi bene anche alla nuora, tu fondamentalmente sei più ricca. Ecco, se noi vivessimo i nostri rapporti in questo modo, ovviamente non ci sarebbe più la competizione tra nuora e suocera. è la stessa cosa come quando magari qualcuna è un po' gelosa del fatto che la nonna possa voler bene alla nipotina, eccetera. Ma sicuramente più persone vogliono bene ai nostri figli, ai nostri nipoti, più i nostri figli sono ricchi, perché quello che conta proprio è l'affetto che hanno intorno. Non è la macchina grossa, non è la casa bella, ma sono gli affetti che sono quelli che contano e fanno crescere e danno ricchezza ad ognuno di noi nella nostra vita. Comunque nella società, diciamo un po' dei tempi passati, il patriarcato rappresentava l'uomo forte, o debole che fosse, però era la figura forte, e tutto il resto. Io sono convinto che sono andati meglio quelle famiglie invece dove c'era la matriarca, perché il senso femminile, il senso di ponteratezza di una donna, e anche la sensibilità, secondo me, migliorano le condizioni di vita. Magari vediamo dei telefilm, vediamo qualche saggi, o leggiamo dei saggi, dove c'è la figura forte, femminile, che sa tenere unita la famiglia, sa tenere unito magari anche il complesso delle cose, perché poi c'erano famiglie che magari avevano delle aziende, avevano dei fattori, avevano delle cose. Oggi c'è un detto bergamasco che lei conoscerà sicuramente, una forna la fa, o la desfa, una ca. Cioè in pratica, con questa frase, non ci si riferisce, secondo me, solo all'aspetto economico, alla gestione della casa, ma proprio alla capacità di aggregazione che una donna riesce a ottenere a tutta la sua famiglia. In effetti, non so se penso, penso la mia famiglia, noi siamo in sei, eravamo in sette, in sei tuttora viventi, e la figura di rilievo è sempre stata la mamma. e di conseguenza ci si ritrovava tutti per andare dalla mamma. C'era un problema se andava dalla mamma e questo ha contribuito a far sì che anche ora, dopo tanti anni, magari ci si ritrova negli stessi momenti, nelle stesse circostanze, perché si rivive quegli attimi e quei momenti che si viveva con la presenza della mamma. È chiaro che una donna deve avere questo ruolo, ma per avere questo ruolo deve pensare che è importante far carriera, glielo dice una che per la quale il suo lavoro è veramente molto importante, però è importante soprattutto se fai questa scelta avere come primo obiettivo la tua famiglia. Perché, ribadisco, o non fai la scelta di avere una famiglia, ma nel momento in cui fai la scelta di averla, questa deve essere al primo posto prima del lavoro, prima della carriera, prima di tutte queste cose. Secondo me questo è molto importante. È anche vero che non è facile e ecco il ruolo dei nonni, secondo me, quei nonni che ti danno una mano a poter realizzare quelle che sono le tue ispirazioni, i tuoi sogni e nello stesso tempo riuscire a svolgere il ruolo di madre e di moglie. Credo che questo sia molto importante. Ne approfitto prima della prima pausa pubblicitaria nella sua veste di sindaco sicuramente conosce le cose del suo paese. La più anziana quanti anni ha? 107 anni. 107 anni? Sì, vive presso una figlia che è a Villadogna, va bene, ed è perfettamente lucida. Grazie a cari. Ancora fa qualche lavoretto. Ad ogni modo, poi oltre a questa, ne abbiamo di 93, 94, 95. Quest'anno abbiamo deciso di festeggiare a nostro modo gli anziani del paese e di dedicargli il calendario. per cui il calendario del 2016 ha proprio le foto delle persone più anziane del paese. Ecco, mi fa piacere una cosa che anche lei la pensa come me esattamente e non dice la parola vecchio. Io non ho mai nel mio frasario detto una volta quel vecchio, quella vecchia, quella persona anziana. Per me è un dispregiativo è uno svilimento dire vecchio. Non c'è niente di fuori norma perché è nel nostro vocabolario, però mi sembra di sminuire la figura di una persona. Anche perché, io lo dico sempre, le persone anziane sono, grazie a Dio, la nostra memoria storica. Guai se mancassero, guai se mancassero quei riferimenti lì. Per questo è molto bello il modo con cui si rivolgono ai nonni i sardi. I sardi li chiamano i grandi e dentro nella parola i grandi c'è il doppio significato. I grandi perché hanno fatto la storia e i grandi perché hanno più età di noi. Ma con questo duplice significato c'è proprio anche il rispetto che si deve avere per chi ha contribuito a farci crescere, ha contribuito a renderci una realtà più facile da vivere e soprattutto hanno fatto come l'ha definita lei la storia dei nostri paesi. Sì, guai. Guai mancassero quei punti di riferimento lì. Io moltissime volte, pur non conoscendo, mi fermo. Mi è capitato a Cerete piuttosto che a Gandellino o a Sovere piuttosto che a Bossico fermarmi con persone anziane di entrambi i sessi per chiedere informazioni che poi se ti metti a chiacchierare e stai lì ad intavolare avranno dei ricordi particolari però ne trovi di quelli o di quelle che veramente ti raccontano tutto quello che è avvenuto nell'arco di 60-70 anni in 10 minuti e te lo fanno con una lucidità che ti giovani nel giorno d'oggi. Ma io ho visto una trasmissione ieri in televisione che mi ha fatto venire veramente ovviamente avrei tirato una scarpa. C'è uno che dice sono andato a Santiago de Compostela e quella là che ride come una matta e è andato là per fare un giro cioè quella non se ne è anche resa conto che questo gli stava dicendo che è andato a fare un pellegrinaggio se poi tu non ci credi ok ma quella non se ne è anche resa conto pensava che quello là fosse andato così cioè questa è la cultura è quella lì di una persona di 30 anni cioè non pretendo che sappia cos'è Santiago un po' di Compostela però neanche che gli ride in faccia a uno che gli dice guarda che ho fatto mille chilometri a piedi perché me lo sentivo come impegno religioso o morale pausa pubblicitaria grazie seconda parte di questo oltre confine sempre con la signora Flora Fiorina e sempre per parlare di donne spostiamoci un attimo nel meridione d'Italia proprio la società ai tempi che furono non oggi era più matriarcale o patriarcale? beh penso matriarcale perché nonostante tutto mi è capitato parecchie volte da ragazza quindi al tempo dell'università 18-19 anni di frequentare di passare le mie vacanze nell'Italia meridionale e lì diciamo l'uomo sì era fuori casa ma che gestiva la famiglia era più la donna proprio perché la donna stava in casa non lavorava a differenza delle nostre che andavano in fabbrica eccetera così e tutta la vita ruotava intorno a loro erano loro che vendevano parlo di 40 anni fa che vendevano per esempio la verdura che raccoglievano per raccogliere un po' di soldi per far studiare i figli erano loro che preparavano la salsa di pomodoro erano loro che si preoccupavano di tutta la gestione della casa da fare il pane eccetera e i mariti avevano come unico ruolo quello di lavorare lavorare nei campi e poi di proteggere la famiglia ricordo ricordo sempre una scena ero ospite presso degli amici e venendo da Gandellino ero abbastanza libera indipendente per cui dopo essere andata a fare un giro in paese senza essere accompagnata sono ritornata a casa di questa famiglia da sola come sono entrate in casa la signora mi dice ma come sei venuta da sola immediatamente viene dietro di me il signore e dice non ti preoccupare la seguivo io e mi è rimasta così impressa questa cosa perché io non mi ero accorta che lui c'era assolutamente per cui avevo fatto la mia strada tranquilla era andata a vedere i miei negozi come vivevo normalmente la mia realtà in quel periodo quando avevo 18-19 anni nei nostri paesi ecco questo però però poi in casa erano le donne che facevano e gestivano praticamente tutto a differenza forse da noi dove dovendo uscire di casa magari già si incominciava a dividere un po' le incombenze i lavori non so io ricordo quando i miei figli studiavano la volta andavo io a portarli in palestra la volta dopo andava mio marito una volta li aiutavo io a fare la traduzione di latino la volta dopo li aiutava lui a fare il compito in matematica non so si tornava a casa tardi l'acqua della pasta la metteva lui e arrivavo io percchiavo la tavola cosa invece che magari a sud non veniva fatto però ecco sono sempre convinta che il ruolo che la casa debba essere gestita dalla donna il marito può essere di aiuto ma la gestione della casa della famiglia e dei figli deve essere prevalentemente un ruolo della donna anche perchè ha una sensibilità diversa una capacità di approccio durante i figli che crescono diverso da quello che ha sicuramente un uomo che svolge magari tante altre cose meglio ma che magari di fronte ad alcune problematiche si trova più in difficoltà a gestirle rispetto a quello che può essere la figura femminile le nostre sono sempre state terre di migrazione se torniamo indietro negli anni dicevano e infatti c'erano anche delle famiglie piuttosto numerose però tutto sommato c'era proprio la mamma a casa perchè nel bene o nel male la figura maschile che fosse in Svizzera o in Francia o in Belgio o addirittura c'era poi chi era finito in Australia o in Argentina e magari non è più neanche tornato indietro oppure si è fatto vivo dopo 30 anni che si era già risposto perchè vabbè anche lì le cose della vita non è che uno fosse alienato fisicamente si era rifatto non aveva più pensato a questa ecco vabbè in Gandellino sono successe per il passato situazioni che non so hanno piantato lì la moglie non si sono più fatti vedere poi magari sono ricomparsi dopo 20 o 30 anni o non è successo guardi io personalmente non ho assolutamente ricordi di questo tipo io credo che sia più facile oggi che queste cose si verifichino anche perché c'era più tolleranza sì c'era proprio più tolleranza c'era più disponibilità a capire anche le difficoltà che ci potevano essere nei confronti di una persona che magari partiva a febbraio e tornava ai morti e quindi e poi ripeto c'era proprio anche la difficoltà forse del fatto che lavorando non lavorando lavorando poco le donne ovviamente non avevano l'indipendenza che c'è al giorno d'oggi però ripeto io credo che proprio alla base ci fosse più tolleranza più capacità di andare d'accordo e più capacità di sopportare ecco di sopportare forse e se ci fosse ancora oggi questa disponibilità questa capacità forse molti matrimoni che fanno acqua subito si rafforzerebbero e forse potrebbero anche proseguire poi essere degli ottimi matrimoni perché credo che difficoltà ci sono sia in chi convive sia in chi si sposa ci vuole però la forza e la volontà di superarli questo in tutte le cose se di fronte al minimo problema la minima difficoltà io sono rinunciataria è chiaro che tutto poi va a rotoli abbiamo parlato di sud d'Italia abbiamo parlato anche di nord adesso ne approfitto perché so che lei c'è stata di persona parliamo un attimino di Perù o di America Latina come le ha viste le donne ecco perché lei c'è stata c'è stata in occasione della beatificazione di Don Sandro Dordi perciò magari non avrà avuto tutto quel tempo però so che è perspicace di conseguenza sono sicuro che lei ha mirato un attimino anche lì diciamo che ci sono ho visto due realtà completamente diverse la realtà della città dove vedevi che la donna aveva una sua indipendenza eccetera oppure la realtà delle zone montane la realtà delle isole abbiamo visitato alcune isole perché ho unito le due cose ho unito il viaggio religioso ma anche un viaggio culturale di conoscenza del territorio e addirittura avevamo in un'isola particolare un'isola che vivono praticamente su delle canne di bambù tagliate dove non esiste il divorzio non esiste la separazione perché la donna non può parlare alla donna viene dato due incarichi purtroppo all'interno di queste isole non ci sono neanche bambini con dei deficit perché purtroppo ci dicevano che quando un bambino nasce con delle malformazioni alla mamma viene dato il compito di sopprimerlo e la mamma non ha alcuna voce in capitolo a differenza invece della città dove le realtà sono un po' come le nostre a parte che io sono anche convinta di una cosa noi dobbiamo valutare anche la realtà strettamente legata alla religione il cattolicesimo o meglio il cristianesimo non il cattolicesimo il cristianesimo ha sempre inculcato un valore quello che l'uomo e la donna hanno la stessa pari dignità davanti a Dio quindi hanno la stessa dignità nella realtà che vivono e quindi è stato più facile per noi cogliere questo concetto di parità le altre religioni io penso per esempio a molti migranti che si trovano qui da noi in questo periodo e alle quali tu vedi il marito davanti e la moglie dietro alle quali tu vedi per esempio che la donna non può uscire di casa senza di lui oppure che i figli che vanno a scuola sono costretti a avere determinati comportamenti perché i genitori concedono al maschio determinate cose alla femmina altre cose e sono strettamente regate anche alla religione e quindi da questo punto di vista sicuramente la religione cristiana ha influenzato tutta la civiltà occidentale e tutta l'Europa e noi siamo cresciuti con un vantaggio perché voglio dire è una cosa innata in noi che mio fratello sia uguale a me e non sia niente più di me ecco ma non perché debba avere la mia stessa eredità come magari qualcuno pensa ma proprio perché siamo pari con la stessa pari dignità e questo concetto si trasmette poi all'interno del rapporto familiare in una coppia c'è pari dignità proprio perché ho imparato fin da bambina a sapere che fra maschio e femmina non ci sono differenze ecco nella cristianità nella religiosità adesso non vorrei poi apparire blasfemo la cosa che mi ha sempre un po' dato fastidio il fatto che nel parliamo proprio del sacerdozio non ci sia l'accessibilità al sesso femminile sì ci sono le suore ci sono ci sono delle figure laiche però il sacerdote chissà perché deve essere solo maschio e non sono convintissimo che Gesù Cristo abbia detto che gli apostoli dovevano essere solo di una certa appartenenza comunque anche lì non sono un teologo e non ho neanche la pretesa di sfondare quell'argomento lì andiamo avanti ancora un attimino lei è stata in Peru per la beatificazione e ne approfitto così anche per divagare un attimino gente di Gandellino ce n'era giù? allora eravamo un bel gruppo un gruppo di otto persone diciamo un viaggio come questo è costoso dal punto di vista economico è costoso dal punto di vista della fatica perché il viaggio è lungo faticoso e quindi non possiamo non potevamo neanche pensare che ci fossero tante persone quelle che sono venute rappresentavano un po' tutta la realtà locale e poi c'ero io e di conseguenza simbolicamente c'era con me tutta la mia popolazione che credo avrebbe voluto essere giù perché è stata un'esperienza bellissima dal punto di vista dell'ambiente dal punto di vista della conoscenza e a persone dal punto di vista della fede è stata veramente un'esperienza che mi ha arricchito in tutti i sensi io amo molto viaggiare e devo dire che ogni anno magari rinuncio a tante altre cose ma mi concedo un viaggio all'anno e questo viaggio che mi concedo me lo concedo un po' in tutti i posti in tutte le circostanze in qualsiasi con qualsiasi realtà mi vengo offerta come occasione e devo dire che queste esperienze ti arricchiscono veramente moltissimo perché viene a contatto con tutte le realtà e in quel momento tu ti rendi conto di quanto noi siamo fortunati poi loro dovevano essere particolarmente legati a quella persona lì guardi le dico che lo stuolo di gente questo stadio pieno per quanto riguardava Kimbote al paese poi dove lui esercitava santa non esercitava perché un sacerdote non esercita però dove svolgeva la sua missione le dico alla gente che lo ricordava tutti io non ho mai baciato tante persone semplicemente perché venivo dal paese di padre d'ordi quindi tutti che veramente cosa è così solo un aneddoto cosa hanno detto quando l'hanno vista con la fascia tricolore allora hanno pensato che fosse un schiribizzo o qualcuno si è reso conto che è un segno di dignità no allora mi è stato richiesto esplicitamente di metterla io non amo mettere la fascia tricolore ma non perché non ami il tricolore italiano tutt'altro perché non mi piace fare esibizionismo è proprio una cosa che non mi piace fare per loro però il fatto che fossero presenti c'era presente il presidente della repubblica c'era i due erano due ministri presenti eccetera per loro il fatto che ci fosse presente l'autorità voleva dire dare un grosso valore a questa figura per cui mi è stato proprio chiesto esplicitamente di mettere la fascia tanto è vero che ci hanno poi avevano preparato dei ricordi da dare a noi da portare che adesso sono in comune proprio per diciamo sottolineare questo bisogno di unità di collaborazione fra il paese dove Beato Dordi era nato e il paese dove aveva esplicato la maggior parte della sua missione teniamo presente che nei paesi dell'America Latina soprattutto lo stesso presidente indossa una fascia chi ha visto Perón o Menem in Argentina chi ha visto l'Uruguay ecco cioè l'insegna quello che poteva essere una volta lo scettro del re oggi rappresenta per loro proprio soprattutto l'Argentina la prima quando c'è l'investitura mette la fascia perciò un sindaco che arriva giustamente ha rappresentato l'autorità costituita di conseguenza per loro sarà stato sicuramente un piacere perché hanno detto abbiamo l'autorità esatto per loro era un riconoscere da parte nostra l'importanza che loro avevano dell'avvenimento l'hanno visto proprio in questo modo e sono stati veramente nei nostri confronti di un'ospitalità di una cortesia di una sensibilità incredibile io mi auguro che siccome noi come comune abbiamo alcuni progetti assieme alla parrocchia in itinere mi auguro proprio di poter a nostra volta ospitare qualcuno di loro per poter almeno parzialmente ricambiare l'affetto che ci hanno dimostrato che era l'affetto che avevano nei confronti di padre Dordi e che poi hanno riversato su di noi c'era anche un fratello suo con noi c'erano i nipoti è stata un'esperienza molto molto bella seconda pausa pubblicitaria grazie terza parte di questo oltre confine sempre inerente alla festa della donna adesso abbiamo parlato della beatificazione di don Sandro Dordi ritorniamo diciamo in casa nostra le nuove tecnologie secondo lei aiutano o sminuiscono il ruolo femminile ma anche maschile se vogliamo beh no sicuramente sono un aiuto come tutte le cose vanno usate con criterio e con moderazione come tutto per cui questo ci permette di essere più vicini perché se lei pensa che noi due minuti fa io ho comunicato con un collega che si trova a Boston per un paziente del quale mi interessava avere notizie quindi in un attimo con internet io ho comunicato quindi sicuramente sono una grossa ricchezza questa però vanno usate con criterio come tutte le cose ecco credo che la moderazione in tutto i latini dicevano in medio stat virtus quindi nel mezzo la moderazione nel cibo la moderazione nella vita di tutti i giorni nella moderazione nell'usare gli strumenti che la scienza ci mette a disposizione credo sia la cosa migliore per utilizzare bene tutto ciò che ci viene offerto dal mondo attuale sì nei tempi passati l'albero degli zoccoli ce lo insegna il rito della sera nella stalla magari il santo rosario però le bimbe o le ragazzine che ricamavano o che qualcosa di manuale facevano i maschietti qualcosa di meno oggi anche la manualità sta un po' perdendosi però c'è da dire una cosa che le ragazze almeno negli ultimi 7-8 anni questo lo verifico anche sulla mia di pelle ormai quasi 64 era anche me rispetto ad un certo periodo oggi ti salutano con maggior garbo con meno c'è stato un periodo che le vedevi più cannite magari con la sigaretta invece diciamo che si sta tornando ancora un bel po' ai valori forse c'è stato un periodo di non so un periodo di transizione che ha portato però vedo che adesso dopo vabbè io appartengo ad una generazione che ormai può considerarsi passata chi arriverà sicuramente avrà ancora qualcosa oggi si presume che anche nelle fabbriche di New York non tengono più chiuse le porte se brucia la fabbrica non lasciano uscire chi c'è dentro a lavorare almeno c'è da o spicarselo tornando un attimo invece a quello che mi ha detto prima perché mi interessa noi adesso nel bene o nel male stiamo assistendo a una rivoluzione multiculturale che la vogliamo che non la vogliamo che la neghiamo o che la subneghiamo però ormai iria e come si suol dire si ghe bisogna anche tignì perché non è che si possono metterci in fondo un pozzo ecco lei mi diceva la donna dietro il marito sì la cultura della religione eccetera ma non riusciranno mai ad emanciparsi questi sicuramente provi a pensare a 30 anni fa le nostre donne o le nostre ragazze però pensi adesso alla libertà alla capacità di gestione al fatto che si muovono vanno ai vari progetti che si pongono come obiettivo di raggiungere e che li raggiungono è chiaro che dovranno inserirsi e per inserirsi ci deve essere da una parte del paese che le ospita la disponibilità a lasciare inserire e da parte loro la volontà di inserirsi questo credo che sia importante sarà un lavoro che richiederà un po' di tempo ma l'integrazione è fondamentale del resto noi la nostra se noi pensiamo all'Italia è fatta da gente che veniva dai paesi del nord gente che veniva dai paesi del sud e abbiamo fatto gli italiani o meglio abbiamo fatto sì forse l'Italia e no bisogna fare ancora gli italiani e forse no gli italiani e forse no gli italiani però voglio dire è una già la nostra già l'Italia è la risultanza di una di una società multietnica perché non possiamo paragonare gli austriaci che c'erano nel nord Italia in Lombardia in Veneto rispetto agli spagnoli che c'erano nel regno delle due Sicilie cioè voglio dire i greci che venivano a occupare l'Italia meridionale cioè è già una società di questo tipo è chiaro che è un fenomeno un fenomeno che va gestito perché il problema grosso secondo me dell'immigrazione adesso è che il fenomeno non è gestito siamo veramente allo sbaraglio all'improvvisazione in tutti i sensi cioè adesso abbiamo il rischio che l'Austria ci chiuda completamente le frontiere cosa facciamo? Siamo lì ecco ah guarda ci sono due gommoni che portano altre 2000 persone dove li mette cioè è un po' questo il discorso ma noi dobbiamo sicuramente imparare a gestire questo fenomeno perché non possiamo assolutamente pensare che si fermi perché è normale noi abbiamo mostrato una realtà a questa gente vera o non vera e che a cui tutti aspirano arrivare cioè sono tutti convinti di arrivare in Italia e di trovare il paese di Ben Godi non è così però è quello che noi abbiamo dato come immagine per cui noi questa gente che arriva dobbiamo imparare a gestirla e dare a loro la possibilità di inserirsi nella nostra realtà purtroppo però in che modo c'era la Pira tanti anni fa però io me lo ricordavo lo storico sindaco Giorgio Lapira tutta un'altra cosa rispetto all'ex sindaco di Firenze il famoso allora era anche lui stato sindaco di Firenze che diceva che ogni persona deve avere vediamo se ricordo bene i passaggi una casa dove abitare una scuola dove studiare un ambiente dove lavorare un posto per pregare e un posto per divertirsi dice nel momento in cui noi fossimo riusciti a dare a tutte le persone queste cinque cose avremmo risolto il problema delle lotte intestine delle guerre di tutte queste cose questa gente si aspetta di arrivare qui di trovare queste cinque cose cose che purtroppo neanche noi non abbiamo perché non tutte hanno la casa dove abitare non tutte hanno il posto dove lavorare non tutte hanno il luogo dove divertirsi va bene e di conseguenza però si aspettano questo allora bisogna con disponibilità magari rinunciando anche a qualcosa di nostro cercare di inglobarli perché solo in questo modo noi potremo creare una realtà e una società nella quale non abbiamo puro vivere comunque se guardiamo nel nella collettività io non sono un grandissimo osservatore però ho notato una cosa parlo sempre di donne ragazze donne di colore le vedo abbastanza libere abbastanza almeno oggi come oggi anche alcune arabe o di etnia araba che cominciano diciamo un po' come si suol dire a lasciarsi fuori ma lei se mi va a toccare i pakistani ragazzi e d'altra parte lì altro che società patriarcale lì ancora cosa di settimana scorso 15 giorni fa in quel di Brescia quella ragazzina di 15 anni che non può mettere i jeans perché però mettiamoci un po' io devono essere proprio un po' un po' inquadrati sì bisogna anche calcolare però che dovranno inserirsi in questa realtà dovremo dargli una mano noi ma non come fa qualcuno dicendo tolgo la carne di maiale a tutti perché così non oppure non festeggio il Natale perché in questo modo non è questo il rispetto è un'altra cosa il rispetto è un'altra cosa per cui bisognerà riuscire perché non abbiamo alternativa cioè io dico se avessimo qualche alternativa potremmo mettere in atto non l'abbiamo l'alternativa l'unica cosa che abbiamo e che possiamo fare gestiamo questo fenomeno in maniera non lasciamolo allo sbaraglio gestiamolo noi perché se ogni cosa riusciamo a gestirla riusciamo a dargli una linea di indirizzo eccetera così e sarà molto molto più facile l'integrazione che è l'obiettivo a cui dobbiamo mirare perché volenti o non volenti se non ci integriamo abbiamo la guerra e questo è il discorso qui sta sfondando una porta quasi aperta adesso non era oggetto dell'argomento ma ormai ci siamo arrivati coppie di fatto mi stanno bene unioni civili mi stanno benissimo magari durano di più di un matrimonio celebrato anche pomposamente religiosamente che poi chissà perché dopo la salteca e il troa ecco non era ripeto l'argomento però ormai ci siamo il presunto diritto ad avere dei figli quando si è in certe condizioni io ma io onestamente non lo capisco ecco adesso c'è stato il caso eclatante del vendola eccetera tanto per capirci però mi sembrano delle cose un po' il figlio non è un diritto ecco il figlio non è un diritto così come tante cose non sono dei diritti io credo che dovremmo veramente riflettere molto su questo e mi fa anche piacere il fatto che il 70% degli italiani mentre nei confronti delle coppie di fatto erano favorevole una regolamentazione in un modo o nell'altro riguardo a problemi come l'utero in affitto e come l'adozione alle coppie omosessuali purtroppo per fortuna purtroppo dipende dai punti di vista il 70% non era d'accordo e secondo me quella disposizione fatta dal magistrato di Roma proprio in questi giorni e di oggi o di ieri che ha concesso le due mamme incrociate l'ha concesso la possibilità dell'adozione è chiaro che è una sfida in un momento come questo in cui ci si trova di fronte a fare delle scelte che sono delle scelte molto importanti anche qui gli italiani dovrebbero secondo me avere il diritto di esprimersi secondo il magistrato però le due bimbe non potranno chiamarsi sorelle e non potranno chiamarsi sorelle perché in effetti sono figlie di madri diverse e di padri diversi quindi dal punto di vista genetico non hanno nulla ma pensiamo invece a tutti i problemi che potrebbero derivare invece dagli uteri in affitto dall'uso dei semi vari io dico ma abbiamo combattuto la prostituzione diciamo che la donna deve essere libera e che la prostituzione io sono favorevole alla legge Merlin quando aveva chiuso le case chiuse perché perché se lo Stato sfrutta la prostituzione è un modo di sfruttamento della donna al di là del fatto che poi non mi dica tanto la prostituzione c'è lo stesso ok ma quantomeno sono io Stato che non ci ricavo dalla prostituzione però voglio dire autorizzare l'utero e la mercificazione dell'utero vuol dire veramente mercificare la donna e credo che nessuna donna debba accettare veramente una cosa di questo gioco 35.000 35.000 bimbi sarebbero adottabili in Italia ci sono 30.000 richieste che non vengono evase non lo dice il Ferrari Giacomo l'ha detto un senatore della Repubblica in una delle trasmissioni su una rete nazionale troppi interessi girano dietro i minori affidati ai vari sì diciamo che affidare un bambino a una coppia richiede un controllo di questa coppia perché in fondo un bambino è importantissimo che venga affidato a una coppia regolare intendo dire regolare come rapporto non perché debba essere sposata ma che abbia un rapporto regolare fra di loro di equilibrio è chiaro però che sicuramente è meglio che un figlio abbia dei genitori anche non bravissimi piuttosto che resti in una struttura questo senza ombra di dubbio io mi sono permesso cosa che non ho mai fatto mi sono permesso sono foglie verdi non mi chieda che pianta è spero che cresca che i virgulti da teneri diciamo diventino un po' più anziani non vecchi così poi magari fra un paio d'anni sulla scrivania o dove la alloccherà dirà ah la pianta che mi regalà che è il buon bosco quando si sta facendo la televisione però va benissimo così la ringrazio moltissimo lei si è meravigliata del perché della mia insistenza e della mia ostinazione siamo quasi alla fine di questa tirata io avevo mirato e ho mirato giusto come mio solito quando vado a cercare gli ospiti perché volevo proprio fare una chiacchierata con una persona lei personalmente non la conosco posso approfittarvene per salutare suo fratello Lucio l'ho avuto come presidente di comunità montana nei miei trascorsi politici e poi il professor Agatino Monteleone suo cognato che quando ci vediamo lui mi dice due parole in bergamasco che io non riesco mai a capire e io ho controvato perché sarà 40 o sarà 50 anni che lei ha Gandelì però resta sempre come si suol dire senza disprezativo uterù ecco da per esser sali in dilau un'ultima cosa come siete messi a estracomunitari in quel di Gandelino avete su qualcuno noi abbiamo adesso delle famiglie in particolare ne stiamo seguendo una che non ci danno dei problemi possono avere difficoltà di lavoro o di questo genere ma direi che noi non abbiamo assolutamente problemi è chiaro il discorso che ho detto prima ci vuole anche un po' di disponibilità e di apertura perché se no è difficile anche fra di noi trovare un'intesa anche fra due che vivono a fianco a fianco è difficile fra marito e moglie immaginati con uno che ha una cultura diversa una religione diversa delle abitudini diverse però se noi non adotteremo proprio questa disponibilità questa capacità di cogliere l'estraneo non come qualcosa che ci può disequilibrare ma come qualcosa che ci può arricchire e io sono convinta che nello scambio fra due persone fra due popoli sicuramente io do qualcosa all'altro e l'altro dà qualcosa a me e quindi è uno scambio che arricchisce se non la vediamo in questo modo vivremo male questi anni prossimi che avranno da venire perché per quanto in tutte le case ci sarà il genero marocchino ci sarà la nuora algerina ci sarà il medico siriano perché ormai questa è la società nella quale noi dovremo convivere e quindi almeno rendiamola quanto migliore possibile Big Ben ci ha detto stop noi ci fermiamo io la ringrazio la ringrazio a nome mio personale e a nome dell'emittente per la sua disponibilità magari la rinviterò in futuro per parlare più di amministrazione o di cose diciamo inerenti a quello che può essere il territorio perché ci tengo particolarmente a fare una trasmissione di servizio che spazi da una parte all'altra ma che vaga a coinvolgere le realtà grazie ancora e consentitemelo non così per fare una cosa fuori dal normale però un bel bacione a tutte tutte e tutte le donne da quelle piccole a quelle grandi perché le piccole diventeranno grandi e le grandi rimarranno per me sempre la mia memoria storica grazie a tutti a nome di tutte le donne grazie